Allora, siamo io e Giuseppe sulla seggiavia, ci inquadriamo. Quella è la pista del Bob, da dove ci lanceremo? Ci lanceremo fra poco, siamo quasi arrivati alla destinazione, ecco la seggiavia che scendono, noi siamo a questa altezza, che cazzo vuoi? E quello è il maestro Ettore, avviciniamo un po', avviciniamo un po', non so, non si vediamo. Io mi lancerò per ultimo, perché se in uno non frena.